A 21 anni di distanza dalla morte, i vigili del fuoco di Arezzo hanno voluto ricordare il collega Filippo Bertini. Filippo, medaglia d'argento al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica nel 2003, perse la vita il 20 dicembre 1999 durante un intervento di soccorso a seguito di una tormenta di neve precipitò dal viadotto Tevere 4 lungo la E45 all'età di soli 27 anni. Nello stesso luogo così i vigili del fuoco lo hanno ricordato con una cerimonia alla quale hanno preso parte oltre al personale del comando di Arezzo e Sansepolcro, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Pensione di Arezzo, la Polizia Stradale, ANAS Misericordia, oltre al Sindaco e al Parroco di Pieve Santo Stefano. La preghiera del vigile del fuoco, il Dio che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri petti la fiamma del sacrificio. Gli specialisti vigili del fuoco del nucleo spelo alpino fluviale hanno infine eseguito una manovra di calata dal viadotto portando con sé una corona di alloro ed un albero di Natale consegnato dal padre di Filippo e collocato sulla croce realizzata in sua memoria. Grazie.